Il Giro dorsale di Benvenuti, poi il Reverso, attacca a Riena di fondo, bravissimo. Trentin, è caldo dopo il canestro precedente, va fino in fondo, appoggia in schiacciata, a Trentin. Buon giro di palla, però la palla non va mai dentro, rimane sempre sul premodo. Sempre deve provare a toccare uno contro uno, vediamo cosa prova a inventare! Canestro della difficoltà incredibile. Bravissima. Cinque secondi, quattro, vediamo chi lo tira. Appena prova ad andare dentro, scarichi in angolo, Semphora! Gole, Sergio! Semphora a tre punti! Show di Sempho nell'ultimo minuto! Molinaro risponde con una super schiacciata che rinvigorisce sicuramente anche il morale del giocatore. Stacca Auxilia, gran palla per uno Jaip, che inchiata! Dominante, Ogbeide in aria, che raccoglie l'errore di Jets Johnson e lo inchioda a due mani al ferro. Grazie a tutti!